Musica To chi si rivede viene da dire proprio lei rappresentante del gentil sesso fa la prima donna in tutto si è fatta attendere per anni, nei periodi d'oro del manzanese quando il benessere sgorgava nel aro da ogni dove quando da queste parti era impossibile staccarsi dalla macchina utensile quando tutto era possibile come Babele la grande sedia ha segnato un'epoca manco a farlo apposta, proprio la sua erezione al solco seggiolare mi si consenta il neologismo e il salsa dolegnanese ha segnato l'inizio della crisi del settore come il vitello d'oro, il simbolo della grandezza ha segnato il passo un peso, una sorta di maledizione di Montezuma impossibile da cancellare e cospuntare il clamoroso colpo di teatro il colosso spostarlo sulla nuova rotatoria appena terminata a San Nicolò sulla strada regionale 56 un biglietto da visita per colui che arriva un arco di trionfo in salsa locale per dare un messaggio chiaro a coloro che per la prima volta sbarcano a Manzano peccato che la cosa non costi 0 euro al contribuente e visti i tempi c'è da chiedersi se tanto fasto di un passato che non c'è più serva veramente fino a quando Pantalone paga perché porci il problema? grazie a tutti